Questa è una manifestazione della Lega Nord, Camera e Senato, per l'incontro che è in corso oggi della Boldrini con il ministro Keynes. Noi diciamo che la solidarietà deve essere data alle vittime dei reati, non certamente al ministro Keynes, che come abbiamo detto più volte è un ministro incompetente, che non sa fare il suo lavoro, e con le sue continue dichiarazioni sullo Jus Soli e contro il reato per l'abolizione del reato di migrazione clandestina, ha creato una situazione vergognosa e difficile nel paese, dove dall'inizio dell'anno sono arrivati ben mille migranti nuovi nelle nostre coste. Una città che arriva ogni mese e che dovremo mantenere noi, oltre ai problemi di sicurezza e delinquenza che ci sono nelle nostre città. Quindi noi solidarietà alle vittime e non solidarietà al ministro Keynes. Noi ci indigniamo perché la Lega Nord è dalla parte dei cittadini onesti e in particolare delle tante vittime dei delinquenti. Con questo svuota carceri, che è il quarto nel giro di due anni, qualche migliaio di delinquenti che hanno commesso dei reati gravi, per esempio il furto in abitazione, la prostituzione minorile, lo stalking, anziché passare e scontare la propria pena in carcere, la sconteranno comodamente seduti nel salotto di casa propria a rilassarsi e magari pronti per uscire alla sera a delinquere di nuovo. Noi non ci stiamo, siamo stati l'unica forza politica che si è opposto a questo indulto. Continua la battaglia, una Lega ancora sulle barricate, sia sul reato di immigrazione clandestina che è stato abolito vergognosamente da tutte le forze politiche, sia contro gli svuotacarceri. Settimana prossima arriverà in aula un altro svuotacarceri, tanto per intenderci quello che garantisce sconti benefici ai criminali, anche ai criminali mafiosi. In quell'occasione la Lega farà battaglia per far decadere questo decreto che rimetterà in libertà migliaia di criminali, migliaia di delinquenti e in quell'occasione presenteremo un emendamento per ripristinare il reato di immigrazione clandestina. Siamo di fronte ad una vergogna senza confini. La Lega sta dalla parte della gente, sta dalla parte dei cittadini onesti, l'abbiamo ribadito in aula e lo stiamo ribadendo adesso qua in piazza in mezzo ai cittadini. Assolutamente sì, l'abbiamo ribadito in aula, al Senato, in maniera ferma e decisa e oggi qui i gruppi Camera e Senato si sono riuniti davanti a Montecitorio per protestare contro questa vergogna che invece di dare risposte concrete ai cittadini, dà esattamente il contrario, cioè libera le carceri e toglie il reato di immigrazione clandestina. Questa è una vergogna, questo è proprio quello che non ci voleva, però devono stare attenti perché i cittadini non sono stupidi e purtroppo pagheranno sulla propria pelle queste scelte sconsiderate che mettono il Paese e la Berlina per quanto riguarda la sicurezza. Assolutamente sì, come è altrettanto vero che devono rimanere in galera i galeotti che nei prossimi mesi saranno liberati dopo che è stato approvato ieri in Senato, questo provvedimento sciagurato voluto dal Governo e dalla maggioranza PD, Scelta Civica, Nuovo Centrodestra e tutti quegli altri che li sostengono, anzi anche col voto del Movimento 5 Stelle, che prevede la scacerazione anticipata di più o meno 4.500-5.000 condannati. Stiamo parlando di gente che nella migliore dell'ipotesi è entrata in casa a rubare piuttosto che ha commesso reati contro il patrimonio alle persone, fino anche allo stalking. Situazioni veramente che metteranno il Paese sotto sopra. E in più si aggiunge questa abolizione del reato di clandestinità. Qualcuno dice che non serve a niente, beh insomma è come il divieto di sosta. Certo se nessuno lo fa rispettare, ma non per questo ovviamente se chi deve farlo rispettare in questo caso la magistratura è negligente, si toglie il divieto di legge. Quello che è è il messaggio sbagliato che ne passa. Quindi viene dato un messaggio da parte del Parlamento e del Governo che in questo Paese possono venire tutti, non solo immigrare, ma possono tranquillamente invaderlo. Tanto non ci sarà nessuno che si opporrà, soprattutto mettendo davanti innanzitutto la legge penale. Ci sono pulluri condannati che abbiamo visto evadere dalle carceri e adesso ci sono anche clandestini che sanno benissimo che nel momento in cui entrano in Italia devono pagare un'ammenda amministrativa e che non ci sarà mai poi un'espulsione. Tutto quello che non va fatto. Quello che diciamo da tempo. Il Governo sta liberando dalle carceri i galeotti e sta dicendo a quelli che vengono in questo Paese per creare dissidio sociale, agli immigrati, i clandestini eccetera, venite, venite, siete ben accetti. Una manifestazione perché questo è un governo che da quando si è insediato ha deciso di dare priorità ai migrati e delinquenti provvedendo a fare ben quattro suota carceri, ad abrogare il reato di clandestinità. Noi siamo qua oggi a manifestare per le vittime dei reati, per i cittadini onesti e anche per le forze dell'ordine che inseguono ed arrestano questi delinquenti. Non possiamo permettere di vivere in un Paese dove non vi sia più la certezza della pena. Noi stiamo con la gente onesta e battaglieremo fino all'ultimo perché questi provvedimenti vengano immediatamente cancellati.